Buonasera a tutti, per Michele Lamaro è più un rimpianto per essere arrivati vicinissimi a compiere un'impresa o più la consapevolezza di essere su una squadra che porterà presumibilmente a buoni risultati. Grazie. Un po' entrambe le cose perché di sicuro il rimpianto è forte perché quando vai così vicino vuoi qualcosa di più, non possiamo accontentarci di questo perché non siamo noi, ci siamo iniziati a spingere affinché queste partite riusciamo a portarle a casa e ormai ne abbiamo abbastanza di arrivarci così vicino e non riuscire ad agguantarle per due o tre punti. Detto ciò, la consapevolezza che siamo una squadra con costanza, con passione è sicuramente quello che più ci interessa, su cui vogliamo costruire il nostro percorso, ma non possiamo accontentarci di questo, vogliamo di più, vogliamo essere migliori, vogliamo essere più dominanti, vogliamo riuscire a gestire queste partite, soprattutto quando siamo sopra di 10, sopra di 13, vogliamo essere più incisivi, più forti, più precisi nelle nostre cose per poter continuare a mantenere quel vantaggio e poi finire la partita come vogliamo. Non possiamo concederci 20 minuti di inizio, secondo tempo, dove magari l'esecuzione viene un po' meno, non riusciamo a uscire dal nostro campo, non riusciamo a fare le nostre cose fatte bene e questo dobbiamo metterci in testa che dobbiamo fare meglio di così. Un po' di boccia, alcuni ricordi per sicuramente. Siamo iniziosi e siamo iniziosi e siamo iniziosi per ottenere il lavoro, per ottenere la scena finale, vogliamo essere consistente, vogliamo essere un team passionato, ma sì, vogliamo di più, vogliamo essere più dominanti, vogliamo essere più accurati, vogliamo essere più effettivi e sicuramente non possiamo dare 20 minuti di inizio nella seconda partecipazione. Prego Gianluca. 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 Gonzalo, buonasera. Esordito con il minor scarto della storia fra Italia e Inghilterra. che cosa secondo te è mancato per fare quel passo di quei 3-4 punti, per te era la prima partita, quindi forse hai una visione più diciamo obiettiva della nostra che abbiamo vissuto tante volte in questi momenti. Gianluca. Gianluca. Quindi, Gonzalo, nel vostro primo test come coach italiano, hai avuto la più vicenda in storia contro l'Inglanda, cosa in fine ha fatto la differenza tra vincere e vincere? La verità, non penso troppo a questa differenza tra punti o sia la prima volta che la sconfitta è più piccola che mai. Io sono fiero del carattere che ha fatto vedere la squadra, soprattutto in qualche situazione difficile vicino alla nostra meta, è qualcosa che abbiamo parlato e chi parla un po' della squadra che vogliamo essere. Dopo, per quanto riguarda il gioco, noi vogliamo portare a Inghilterra la nostra partita. Purtroppo, come ha detto Mitch, soprattutto in secondo tempo è l'Inghilterra che ci ha portato alla loro partita. Allora, senza palone è un po' difficile per noi e sono sicuro che potremo fare meglio con la nostra tush, per avere un po' più di palone per attaccare, potremo fare molto meglio con il gioco aereo che sappiamo che era la loro forza, ma per poter attaccare oggi dobbiamo prendere il loro gioco al piede e ci organizzare per mettere noi la pressione e la maggioranza di tempo sono loro che hanno potuto in secondo tempo lo fare. Ma quello che è molto interessante è che le palone che abbiamo avuto di qualità, come vogliamo, abbiamo avuto due palone in primo tempo, due mette, è molto interessante. nel secondo tempo le due o tre palone che abbiamo potuto attaccare come vogliamo hanno sempre stato break, mi hanno detto che abbiamo fatto più break che loro, più meta, tutto questo. ma quello che mi piace tanto è che non ho visto, io sono un po' deluso e anche fiero perché non è facile, abbiamo giocato una molto bella squadra inglesa con una potenza, un gioco molto aggressivo e quello che mi è piaciuto è che non abbiamo nessun giocatore o membro dello staff, nel spogliatoio, non dico contento, ma soddisfatto di una piccola sconfitta. Non siamo tristi, non siamo fastidiosi, ma non siamo soddisfatto e questo mi piace tanto. è un po' deluso. the closest gap in history I'm certainly proud of the spirit that the team showed today the fact that we defended very well in many occasions close to our dry line which is a testament to the kind of team that we want to be the second half, yes, it was tough we played a lot without the ball and if you look at the aerial game and at the touche which we struggled a bit in the second half is something we want to fix in order to get more possession and play the kind of rugby that we want to play so also if you look at the first half when we got quality balls we got two very good quality balls and they led to two tries prego, Francesco Volpe Francesco Ciao Gonzalo, ciao Mitch Gonzalo, stai cominciando a scoprire gli italiani nel rugby bellissimo primo tempo due mete splendide veramente e nel secondo tempo per almeno mezz'ora come direbbero i francesi che tu conosci bene siamo un po' passati a coté della partita alti e bassi pensi che su questo si debba e si possa lavorare? question to Gonzalo long story short it was a brilliant first half from Italy and probably half an hour of Eigenlows in the second half is it something that you want to work on? Sì certo certo che che dopo una prima partita un nuovo ciclo abbiamo fatto nessun alibi non siamo sappiamo che possiamo potremmo fare meglio ma per una partita che abbiamo preparato con due allenamenti la settimana scorsa e una settimana di preparazione possiamo possiamo vedere grazie a questa partita dove dove dobbiamo mettere l'accento per la settimana prossima e come ho detto già a qualche giocatore nel spogliattolio il primo obiettivo sarà di fare meglio e sono sicuro che possiamo fare tanto meglio in una settimana sarà una squadra ancora più dura più dura che ha vinto dei 40 punti in Francia sappiamo che il punto questo è difficile ma sì come ho detto secondo tempo Inghilterra ci ha portato alla loro partita e abbiamo avuto dei problemi a uscire e andare alla nostra ma sono sicuro è una fiducia totale quello che oggi penso che ogni ora mi sentirò meglio perché non abbiamo tanti infortuni grave che qualcosa è importante per noi per tutti ma per noi e che penso che sarà molto chiaro i punti dove dobbiamo fare meglio e che sappiamo che possiamo fare meglio e dove metteremo l'accento perché il solo obiettivo che non è negoziabile è quello che abbiamo fatto oggi dobbiamo fare meglio contro una squadra più difficile a Dublin in un contesto ben più duro e complicato che questa sera l'accento 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 che è per me non negocinale è che vogliamo essere meglio vogliamo giocare meglio di oggi perché sappiamo che possiamo fare meglio è non un'excusa a ogni tempo ma è la realtà che prepara questa l'accento con due treinze l'accento e una week di preparazione l'accento questa l'accento l'accento ora vediamo molto bene dove fare l'accento l'accento e definitivamente la prima è improve perché vi giocare in un tuffer environment in Dublin against un team che scord 40 points against France yesterday come ho detto prima l'inglant ci spavano la loro game che vogliono in second half ma apart di questo sono completamente confident in l'accento dopo oggi giacomo Buonasera a tutti e due avevo una domanda per uno una Gonzalo penso che possa essere soddisfatto della prima partita italiana sul fronte offensivo però so già che ci dirà che anche per l'attacco ci saranno delle cose da migliorare e nello specifico ti chiedo quali potrebbero essere invece per l'opinione espressa da Gonzalo che abbiamo lasciato abbiamo permesso all'Inghilterra di fare la sua partita nel secondo tempo volevo chiedere al capitano che era in campo se non si è trattato anche di un problema di supremazia fisica di maggiore peso di maggiore potenza da parte degli inglesi magari soprattutto in Minskia a question to Gonzalo you said that you were happy from the way the team played offensivly but also if you could maybe address something that you want to improve going to the next week and to Michele Gonzalo said that basically you played the game that England was expecting to be played in the second half it was a matter of physicality or what else Gonzalo Sì noi dobbiamo lavorare per ritrovare ad avere più di palone di qualità per poter sviluppare il nostro attacco questa sarà una delle priorità ma ancora una volta è questo che ha mancato abbiamo avuto veramente un possesso molto basso e non abbiamo potuto giocare nelle zone che vogliamo giocare e questo è un po' di lavoro ma so che possiamo lo fare e soprattutto so che i giocatori hanno la voglia dello fare e che oggi i momenti che abbiamo potuto lo fare è stato molto bene e non è stato facile abbiamo giocato contro una squadra che è la loro forza e la difesa molto fisica con molta pressione io non ho tanto aiutato la squadra perché alla fine abbiamo veramente fatto evoluzionare o cambiare un po' il sistema d'attacco allora i punti di riferimento la riorganizzazione per una prima partita sotto pressione non è mai facile ma penso che non è stato l'organizzazione è stato che non abbiamo potuto avere abbastanza di pallone per sviluppare un po' il nostro gioco e quando vediamo quello che possiamo fare quando lo abbiamo mi fa fiducia e ancora una volta abbiamo perso solo tre punti con una partita che è stato soprattutto il secondo tempo nelle termini d'Inghilterra allora possiamo costruire su questo è stato abbastanza po' in occasion e non aiutò a giocare dove vogliamo giocare per rispondere alla tua domanda no non credo che l'Inghilterra sia stata più fisica di noi credo che sia stata più tattica soprattutto nel secondo tempo sono stati bravi a tenerci nel nostro campo a non permetterci molte occasioni di uscire bene di uscire come avremmo voluto sono stati sicuramente molto bravi a tenerci in quella zona e quando devi comunque giocare in zone complicate della partita è quello che fa la differenza a questo livello quanta pressione riesci ad assorbire e quanta riesci ad applicarne verso la squadra avversaria quindi per me è fondamentale riuscire a capire questo riuscire a capire il perché di questo probabilmente nel secondo tempo siamo un po' caduti nel loro modo di giocare e questo è sicuramente qualcosa che dobbiamo rivedere detto ciò penso che fisicamente abbiamo lavorato bene siamo stati dominanti in alcune situazioni e certo in altre ovviamente un minimo retrocedenti ma soprattutto in difesa siamo stati costanti durante tutta la partita non abbiamo concesso mete semplici che comunque è un grande risultato soprattutto viste le partite dell'anno scorso dell'ultimo periodo quindi in generale dobbiamo continuare a trovare questa costanza ma detto ciò non possiamo accontentarci di quanto ci siamo fatti assorbire dentro il gioco inglese dobbiamo riuscire ad essere più costanti e applicare questa pressione più tempo possibile durante la partita perché penso che sicuramente buoni 60 minuti della partita abbiamo avuto la pressione su di noi è stato quello che ha fatto la differenza come Gonzalo ha detto nella seconda half spavamo in modo che vogliono giocare ma all'ultimo sono piaciato con la defensa consistente e non donna soft rise per la game prego stefano buonasera buonasera a tutti una domanda sia per il per il ct che per il capitano velocemente una squadra che era uscita dai mondiali abbastanza con le ossa rotte come ha detto il ct ha poco tempo per per cambiare i giocatori più o meno sono gli stessi ma abbiamo visto una squadra molto trasformata in campo insomma diversa molto reattiva capace di tenere il campo mentre invece in mondiale abbiamo visto una squadra diversa come è stato possibile cambiare senza cambiare i giocatori i giocatori più o meno super giù sono gli stessi question to gonzalo considering that there were few changes to the squad that played the rugby world cup and all of everybody recalls the end of the rugby world cup what has been done to change the team to change the mentality and to see a different team today with basically the same kind of starting 15 that we saw at the rugby world cup and Prima devo dire che la risposta precedente, io non ho detto che abbiamo giocato come l'Inghilterra voleva che noi giochiamo, ho detto che loro ci hanno portato alla partita che loro volevano di giocare una situazione di gioco al piede su gioco al piede e che noi, come voi sapete, abbiamo lavorato per aggiungere questa forza anche al nostro gioco senza perdere la nostra capacità di attaccare con il pallone. Penso che per momenti abbiamo potuto lo fare, ma tutto il merito del cambiamento, si è avuto un cambiamento, e tutto il merito è per i giocatori. Noi abbiamo fatto un primo raduno in dicembre, abbiamo deciso di non fare niente nel campo, e fare un piccolo lavoro con Olo, di parlare più dell'identità della squadra che vogliamo essere del gioco. Dopo il nostro progetto di squadra abbiamo un progetto di gioco, di come vogliamo giocare, e i giocatori hanno fatto questo lavoro abbastanza bene. Abbiamo fatto un altro raduno a principio gennaio ancora per lavorare su questo, su questa parte più in relazione all'identità della squadra. Penso che i giocatori hanno fatto un lavoro molto interessante, e per questa ragione oggi quello che mi dà la più grande satisfazione è vedere che penso che in tribuna, magari voi l'avete sentito come io, in qualche momento sentiamo che è un momento che possiamo lasciare, che normalmente sarà meta per l'Inghilterra perché la dominazione, perché l'arbitro aveva una reazione molto rapida per fare così e fare avvantaggio. E quando difende, 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 vantaggio, 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 è più facile lasciare che continuare. E questa è una base dove tutto può essere costruito, tutto. Ho rotto il C alla squadra con questo, ho parlato tanto, abbiamo fatto tanto, che se abbiamo questo carattere, se abbiamo questa visione comune, questo carattere, non ho dubbio di quello che possiamo fare dopo con il nostro gioco. Allora questa fine di partita mi lascia un gusto, si dice, molto interessante perché non era facile. Alla minuto 79, 45 secondi, eravamo a un metro della nostra meta, e il minuto 83 è stato indietro della loro e questo è un merito del cuore e della passione che i giocatori hanno voluto offrire ai loro tifosi e questo non è qualcosa che non dobbiamo parlare o fare come che non è importante, è molto importante. Ovviamente non è stato facile poter fare passi avanti dopo il Mondiale, è stato un periodo che sicuramente ci ha toccato particolarmente a tutti noi giocatori. Penso che la cosa fondamentale, come citava già Gonzalo, è il fatto di avere un obiettivo, di avere uno scopo comune che ci faccia guardare avanti. Non si vanifica quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni con due partite, sicuramente non sono state le migliori partite che abbiamo giocato, ma detto ciò, quello che ti fa guardare avanti è lo scopo di tutto questo, il motivo per cui ci alziamo tutte le mattine e lavoriamo come dei matti per poter raggiungerlo. E questo deve essere quello che ci traina, ispirandoci l'uno dall'altro e continuando a lavorare per raggiungere questo scopo, per raggiungere questo obiettivo. E poter mettere tutti quanti sulla stessa barca è la cosa principale, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso, nei club, nella nazionale, e riuscire a creare un movimento che spinge tutti quanti verso questo obiettivo. e non è facile da andare avanti al raggiungere il raggiungere il raggiungere il raggiungere il raggiungere. anche se le ultime due matchi e le ultime due defeatsi non definiamo noi come team. ma penso che la più importante per noi è avere un obiettivo di come un obiettivo. che è importante per noi, è il motivo per cui noi ci sono inizia ogni giorno, noi ci sono inizia ogni giorno, e inizia ogni giorno, e inizia ogni giorno, e noi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. What Gonzalo said is that basically the first camp in December the team focused the most on working on the identity more than on rugby and also the second camp later in January a lot of work in terms of focusing and developing a team identity has been made and that's the reason because Gonzalo is very confident and it's something which is stressing with the team and seeing the mentality the team showed and also looking at the last minutes of the game coming from being on defence on the try line scoring the final try is something that leaves him no doubt about what we can achieve as a team. Are there any questions from English media? Okay. Thank you so much. We're waiting for Steve.